Aiutare l'uomo a ricongiungersi con la sua anima, respirando la religione e la spiritualità delle culture giapponese, messicana, indiana e africana. Nasce così Soul City in via Ponte di Tappia, un format ideato per le grandi metropoli che da Napoli arriverà a Roma e a Milano. Ci saranno poi Soul Country in campagna e Soul Sea in barca. È un'idea dell'artista Monica P, che ha lavorato per un anno insieme ad Antonio Paglini al progetto illustrato ieri alla città. Soul City è uno spazio composto da quattro anime, quattro luoghi e quattro continenti. La prima è l'Africa, la seconda è il Messico, la terza è l'India e la quarta è il Giappone. Abbiamo scelto questi luoghi perché sono più vicini alla spiritualità umana, a differenza di New York, Dubai e altro, perché il nostro messaggio, quello che noi lanciamo, è di aiutare all'uomo a ritrovarsi. La parola d'ordine è sostenibilità. A Soul City abbiamo cercato di porre particolare attenzione anche negli arredi, che sono tutti rigorosamente di legno, quindi cerchiamo in tutti i modi di essere lontani dall'utilizzo della plastica. Persino gli spazzolini abbiamo trovato degli spazzolini di bambù con setole non sintetiche ma di bambù. A queste quattro stanze si unisce uno spazio comune, Napoli con i suoi credo, le sue leggende, il suo spirito fortemente devoto ma anche esoterico, dove ogni mese si è raccolta una mostra d'arte diversa e l'artista viverà per tutto il periodo in una stanza, avendo la possibilità di interagire con i turisti. La direzione artistica di questo spazio è affidata all'artista Marco Coda, che ha portato in questo luogo la sua personale Napulè. La genialità di Monica Palumbo, che è autrice di questa grossa giostra, se così possiamo definirla, è la possibilità che l'artista resta in galleria per poter vivere la sua quotidianità, anche seguita con delle telecamere e potrà esporre e comunicare sia col pubblico napoletano nell'occasione del suo evento, ma anche con i turisti che soggiorneranno qui a Napoli.